Mi riconoscete? Sono Lomino Baby Market e tutti questi sono i miei prodotti. L'acqua minerale, i vini, le bibite, i liquori e gli spumanti sono freschi e spiritosi, sempre in movimento. Basta una telefonata e arrivano a casa vostra. Scorrivate questi numeri. Lomino Baby Market suonerà a casa vostra. Baby Market, via dei Donoratico 55 Cagliari.